Rio Cimetto va tutelato. Per questo l'associazione Adesso ha organizzato per domenica una manifestazione con lo scopo di lanciare un chiaro messaggio al comune che vuole intervenire sul territorio per realizzare una nuova strada. Si tratta di una zona che fino a qualche anno fa era candidata a diventare zona protetta come zona umida minore, addirittura dal comune di Venezia c'è una relazione, un documento del 2008 e poi purtroppo il comune dimentica e quindi lì sopra è prevista questa strada. Rio Cimetto è una preziosa area naturalistica nel cuore di Mestre, sconosciuta a molti, che potrebbe diventare la porta di accesso al parco fluviale del Mar Zenego. È un impoverimento della biodiversità, il prato che è vicino al rio Cimetto è una zona umida e quindi tutta una serie di piante ed animali verrebbero ad essere sminuite e non potrebbero più vivere o avrebbero una vita stentata. Eppure l'alternativa ci sarebbe, dicono i cittadini. Non si vede perché ci sia questa, come dire, cocciutaggine da parte dell'amministrazione nell'esistere su questo progetto che è a questo punto anacronistico, perché è un progetto ormai che è dato a vent'anni, che costa un sacco di soldi, perché il comune di Venezia ha reeditato più di 10 milioni di euro per realizzare questa viabilità. Non si capisce perché, perché ci domandiamo per quale traffico ferroviario sia prevista una strada così invasiva quando a pochi metri, a una decina di metri, c'è già la possibilità di ampliarla con la controstrada di CAV e la società di CAV si è già resa disponibile nelle dichiarazioni a poterla ampliare anziché invadere questa preziosa area, 4 ettari di verde, che vengono da lontano, da una storia di biodiversità che non va assolutamente distrutta. Il ritrovo sarà domenica 6 febbraio alle 10.30 nel parcheggio di Via Olimpia.